Vincenzo, le quotazioni di Pinocchio sono al 15%, siamo in caduta libera, siamo in caduta libera. No. Ma chi? Chi è in caduta libera? La nostra lista civica. No, 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 io sono io e rimango io. Dobbiamo assolutamente ritornare sui nostri passi e ricandidare Vincenzo. Cosa vuoi che importi alla gente? No, niente che vuoi importi. Una mazzetta in più, una mazzetta in meno. Solo in magna magna. Ma robè, senza temere non si va da nessuna parte. Quindi riscenderà in campo? Senz'altro. Evviva il magna magna. Ciò. Non finirà? Mai. E adesso chi glielo dice a Pinocchio che non è più candidato? Dai, su, non te la prendere. È che oggi la gente non vuole più finte bugie. Ma bugie sincere. E viva il magna magna. Non finirà? Mai.